La nuova Langma Liv è una bici fatta su misura per il corpo femminile, come tutte le Liv. Infatti mi sono subito trovata a mio agio con la bicicletta e quando sono salita in sella mi sono sentita subito parte integrante di essa e assolutamente in una dimensione di comfort. Sicuramente la leggerezza della bicicletta aiuta tantissimo in salita ad avere delle buone prestazioni, anche perché risponde molto bene agli scatti e ai rilanci. Ha una buona rigidità e ciò permette di eseguire le traiettorie che si vogliono fare nel miglior modo e la bici si muove e si modella con il proprio corpo. Nonostante sia una bici molto leggera e quindi adatta alla salita, è anche aerodinamica. Infatti sia in discesa che in pianura mi sono trovata davvero molto molto bene con questa bicicletta e quindi per chi fa triathlon come me potrebbe anche essere una buona bici. Il manubrio rimane molto saldo alle mani, infatti quando sono andata sui sentitrini ad esempio la bici rimaneva salda alle mie mani e non ho avuto alcun tipo di difficoltà, anzi è stato anche molto divertente. I freni a disco permettono di frenare in assoluta sicurezza e si possono fare diverse frenate di emergenza. Io vivendo a Palermo in mezzo al traffico ne ho dovuto fare un paio e comunque sia la bici ha risposto prontamente e ho frenato in tempo. Io vivendo a Palermo in mezzo al traffico ne ho dovuto fare un paio e non ho avuto.